Le 10 o le 8, insomma, se l'omicidio, se la morte è avvenuta prima dell'annuncio, Hajime può dire, no, aspetta, allora, quello che ho visto io era finzione. Ah, ok. Capito? Cioè, sicuramente è una cosa importante che dobbiamo tenere a mente. Per favore, per favore, fa che sia in tempo, corro nella sala concerti pregando nel mio cuore. Non ti ricordo una scena di un personaggio di nostra... che abbiamo inventato noi? Ah. Eh, non ti ricordi una scena del genere? Mi diceva, dai, dai, che ce la posso fare ad arrivare in tempo. Ma mi sono completamente dimenticato che le preghiere non significano nulla su quest'isola. Oh no, chi cazzo è morto? No! No, no, no. Oh, raga, ma che cazzo? Free time spregato. Eh, dai, eh, no, è lei che balle! Eh, ma vaffanculo! Ma non si vedevano i capelli prima! Eh, boh, sono usciti dal nulla, sti capelli! Sono arrivato troppo tardi. Oh, raga, ma porca puttana! Ma perché? Ma vaffanculo! Io, boh, io quitto sto gioco di merda! Ma infatti! Eh, però se non sta scritto l'orario, eh, quelli sono cazzi, eh! Oh, è O Un problema Partai Are Chi Di